Sbabam Vediamo come ce la giochiamo questa volta Allora, gli obiettivi sono lì Sono uscito un po' in ritardo perché Pifferosamente stavo guardando un po' le nuove armi sbloccate Ehi, il pacco non deve raggiungere la fuga Ma cosa vuol dire sta frase? Allora Con molta calma, eh Tutti li ho presi Adesso basta Mamma mia che aggressività da parte di Ale Miracle Tengo sotto controllo il pacco intanto Mamma mia ma che partita sto facendo Non li faccio avvicinare al pacco No l'hanno preso, merda è salito su dalle scale, cazzo Devo andare No non mi prendere, porca miseria dai avevo superato le scale Stavo facendo una mega action E non camperare, vieni fuori Ah no, non stava camperando Vediamo se mi piazzo un attimo di qua Vediamo E slam Così a caso la bomba L'uomo col pacco, preso Preso l'uomo col pacco No no no, da dove? Ma dai ma vaffan brodo Vabbè comunque ho fermato il pacco Dai Pianimazione Sdraiamoci Merda merda Sdraiamoci Dov'è che sono ste schiappe? Eccolo qua Oh, dove andate? Preso, in testa Ragazzi No ma dai ma sto facendo delle giocate ingombranti Perché devi far così? Centralmente andiamo Che è successo? Ma com'è possibile che non l'hanno anche ammazzato? Ma cosa sta succedendo? Non sto capendo nulla E intanto l'ho preso Anche se non capivo un cacchio Sono morto alla fine Potevo lanciare un pacco di soccorso E invece non l'ho fatto Però intanto t'ho barzato Ragazzi questo è un partito un po' random Che vi faccio vedere Perché a sto gioco mi sta piacendo una cifra Intanto mi hanno distrutto Comunque farò vedere delle partite random Così del multiplayer di Battlefield Hardline Giusto per farvi vedere appunto qualcosina Di questo gioco che è veramente molto divertente Almeno io mi sto divertendo veramente un casino Non sono bravo in questi giochi Negli FPS Soprattutto quelli Ultracompetitivi Faccio cagare Vorrei fare anche dei video su Su code o cose del genere Ma Veramente sono un po' pietoso Intanto stanno cercando Di distruggermi in tutti i modi Io vado pure nell'area Dove non dovrei andare Dov'è che è? Non è possibile Mi ha aspettato tutto il tempo Ma dove si è messo a camperare questo? E' lì sul camioncino che campera Come un pazzo Preso No dai Dal lacrimogeno sono stato ucciso La porca misera è dal lacrimogeno Dai che dobbiamo vincere ragazzi Non facciamogli consegnare l'ultimo pacco Stiamogli addosso Questa è una partita obiettivi Oh Dove cazzo ha spuntato? Preso No cazzo lo sapevo Coginiamo così però Dai ragazzi E' quasi finita Forse ce la possiamo fare Ce la possiamo fare Attenzione L'elicottero dei sospetti È diretto a una zona di funga Dai che hanno solo 10 ticket Dai Ne sbrasiamo un altro po' E abbiamo vinto Dai Guardate sto qua Ma dov'è che è andata? Basta Oh là Abbiamo vinto Ma no abbiamo perso Brutta partita ragazzi No anzi non è stata una brutta partita Perché le statistiche sono state abbastanza buone Dai non è andata male ragazzi 9-10 non è andata malissimo Ci vediamo al prossimo video E invece no Ne faccio un'altra Sì ne faccio un'altra Non mi interessa Pronti a tutto che ne faccio un'altra E ci mancava pure la musica in macchina Porca miseria Dai Raggiungiamoli porca miseria Bam l'ho messo sotto Ho messo sotto il nemico E non è finito E questo sta facendo la retro Porca miseria Bam l'ho messo sotto un altro Ma com'è che ce la stiamo giocando A mettere sotto gli avversari Ma com'è Scendiamo va E qua sono tutti dentro sta casa di merda Mi sa Non è possibile Ma come ha fatto poi con una pistolina Qua però ho sbagliato io Sono entrato troppo Troppo aggressivamente Qui Cazzo sono qua però È che hanno rubato Porca miseria Che mira di merda Porca miseria Rianimazione via Ma porca di quella puttina Preso Porca miseria L'avevo preso Preso Ma chi è che sto guarendo via Qua Uno E due Cazzo il secondo non me l'ha fatto rianimare Con calma dai bro Rialzati adesso Preso Attenzione ragazzi Attenzione Vado io Svan Cazzo non l'ho rianimato Perché Ma vaffanculo Non me l'ha fatto fare ragazzi Non me l'ha fatto fare Non me l'ha fatto fare Vediamo di qua Se arriva qualcuno Che non si sa mai Ma il pacco è qua ragazzi Mi sa No 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 Ragazzi Dietro Ovviamente c'è qualcuno qua sotto Brother Eccolo Preso Brother ci sei? Ehi bro Ma che cazzo Ma perché sembra me Cazzo hanno preso il pacco Merda Andiamolo a recuperare sto pacco però Ma vaffanculo Ma guardate questo Non bisogna fargli prendere il pacco però Dai ragazzi No adesso Non così Porca miseria Porca Dai che ti ho preso Non lo prenderai No E invece abbiamo vinto Perché non ce l'hanno fatta Sono finiti i ticket Almeno abbiamo vinto una delle due partite Una su due Ci vediamo Al prossimo video Al prossimo video Grazie.